amici di youtube ben trovati da marco liguori grave lutto per il tg1 la rai e più in generale per tutta la televisione italiana ci lascia un pilastro della televisione nostrana e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo nei giorni scorsi un fulmine a ciel sereno ha funestato il cielo del giornalismo italiano ci lascia un personaggio che non esiteremmo a definire una colonna portante della televisione nonché del giornalismo italiano a 85 anni ci ha lasciato lo storico giornalista uno dei primi conduttori del telegiornale della prima rete giuseppe vannucchi oltre ad essere stato uno dei primi mezzo busto del telegiornale di rai uno lo ricordiamo anche per aver collaborato con bruno vespa alla conduzione della storica rubrica tam tam a partire dal 1977 dal 1999 giuseppe vannucchi è stato assessore alla cultura del comune di prato come detto ci ha lasciato a 85 anni il primo gare di marco liguori con immenso dispiacere ricorda uno dei giornalisti italiani più famosi giuseppe vannucchi un personaggio che ha fatto la storia del tg1 e della rai amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video un'altra parte l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete il vostro commento è